Non poteva esserci inizio migliore per la prima giornata del Medimex in attesa dei grandi concerti e dell'esordio di venerdì 16 nella Rotonda del Lungomare con Echo and Banime nel Tarantino Diodato. Al via le iniziative collaterali con l'inaugurazione della mostra Perfect Day, Lou Reed della New York di Andy Warhol, visitabile fino al 9 giugno al Marta Museo Archeologico Nazionale di Taranto. A dieci anni dalla sua scomparsa la mostra ripercorre la storia di Lou Reed, uno dei cantautori più crudi al tempo stesso poetici che la scena musicale internazionale abbia mai conosciuto. Mostra curata da Onoarte che rappresenta un'anteprima nazionale e comprende 55 fotografie dei più importanti fotografi internazionali. Subito dopo il racconto Lou Reed Underground di Velluto con i giornalisti musicali Ernesto Assante, Geno Castaldo e Stivanter alla presenza di Claudia Lucchese all'esordio quale delegata la direzione del Marta facente e funzione. Il Medimex ha contribuito a mettere in luce insieme al primo maggio di Taranto che questa città è vivissima, che ha un sostrato culturale importante, che non ci sono solo le storie negative che sfortunatamente siamo costretti a ricordare e a raccontare, ma che c'è anche una città molto vivace. Io sono da molto tempo che chiedo alla cittadinanza un'oraria, non mi viene ancora data, questo è l'unico difetto. Questa la Puglia è in generale una terra incantata per la musica e dovrebbe essere presa esempio per tutte le cose che si fanno in Puglia. Lou Reed è stato quello che ha inventato alla fine degli anni Sessanta il rock moderno. Bowie diceva che Lou Reed aveva creato il quadro, la struttura di base. Sono molto emozionata di cominciare la mia attività qui a Taranto, al museo, proprio con un evento così importante.